Porca di quella porco, di porca, io c'ho Sagat, Sagat legnate da O e ho preso le botte, da Guy, da Guy il Rosso, dallo Yankee, ragazzi cosa dire, Zulian, Zulidani, Balcosas, e dice Double S quest'oggi per voi amici di Video Game Generation, la voce non esce neanche più, mi intrappetto, balbetto, perché la scimmia del videogioco, mi intrappetti perché fai la tra, faccio la tra, la scimmia del videogioco ci ha inglobati e non abbiamo più voglia di dire nulla, se non di salutare voi amici di Video Game Generation, un abbraccio grande con le mani sul joystick, quindi così, ciao a tutti